Ciao ragazzi, oggi siamo a Monteduro, siamo per fare il biondo, qui c'è il Loris che sta davanti fa vedere il percorso, proviamo a non morire, si parte, Loris Capogruppo buona minchia mi stavo impuntando il terro è tirato guarda i dolici gioca giocati giocati alti E' un po' più riusciante E' un po' più riusciante Ho rischiato di morirsi Guarda l'ho L'ho spinta Quando ero arrivato E' un po' più esplosso Guardate l'ho 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 a posto che è andata bene sono caduto sulla neve tu sei esplodo poi ho visto te io sono arrivato al cannone infatti ho detto arrivo lì vedo che mi ha tirato così ho detto cazzo qua esplodiamo post crash di sanni e salvi l'alce dell'oris che ho un po' provato dalla salita stiamo facendo la terza con questo arriveremo a 2300 di livello quindi è un bel giretto abbiamo provato a fare anche la sassaia ma troppo bagnata vi lascio qualche clip un bel giretto ci vediamo su per l'ultima salita vai loris spinge aspetta che non fatemi la mascherella non ci vedo un cazzo siamo in sella qua monte duro discesa a biondo porca puttana diciamo un po' tirata qua bisogna andare con il carro perché le moto scavano tutti i buchi qui ci vediamo 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 va sempre la saga dei corti che è un salto strano e difficile da fare andiamo drop piccolino occhio qua che ci sono i rami ma occhio qua ti ricordi ora bisogna andare piano perché prima siamo esplosi i traversi e qui si conclude il nostro bel giretto lui si ammazza intanto vabbè arrivederci al prossimo video ciao bella finita la discesa ho cacciato un altro crash queste condizioni delle bici è abbastanza infangata ma poteva andare peggio qua c'è il Loris che ha dovuto sorbire i miei fail adesso torniamo a casa ciao